La signora è stata sottoposta a Tampone, che è stato inviato a Napoli e non si aspetta il visitato. Ho risolto di un po' lineare che la signora è stata sottoposta all'interno di Milano e Cene a due test rapidi, dopo che è tornata tra la schiena di Boccioli e che tutti e due hanno dato la questione che ci raccontavano. Aspettiamo che si trovano a Tampone che arrivano a Napoli e a Puglia. Quindi stiamo anche qui, mi ringrazio che in questo momento è stata sottoposta ad un regime particolare in cui un mondo può sottopostare per l'esercizio di vita, ma non avere attenzione. Assolutamente sì, grazie. La sua politica è stata inizia a tutti per verificare e controllare lo stato di salute dei pazienti rispetto al Covid-19. Sono stati effettuati 25 test per i 25 tamponi alle persone che sono agenti, che vengono a superiore di sera. I test, ripeto, sono negativi, 8 test e 8 tamponi sono stati fatti al personale sanitario e i test sono negativi. L'esercizio dei tamponi verrà fornito ancora appena il Comunio. L'esercizio dei tamponi verrà la giornata di oggi per l'anno, anche esaminare il programma del Stato, gli altri interiambulatori, dividono il Cene. Se qualcuno non ve lo ha fatto oggi ve lo fa. Domani, l'Azola sta con leggi di essere tutte le pregozioni per visitare la situazione a Puglia del Cene. Grazie. Grazie.